Quanto è importante discutere e affrontare tutti insieme il tema del cambiamento? La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha fin da subito colto questa grande opportunità proposta dall'ente camerale perché ritiene che in questo momento storico noi il cambiamento lo stiamo già vivendo ed è veramente importante dal nostro punto di vista che venga vissuto in maniera professionale. Per questo è strategico questo momento di confronto che auspichiamo possa continuare poi nel tempo perché soltanto attivando un confronto internazionale e con professionisti che veramente possono portare delle forti competenze si riuscirà a cavalcare quest'onda con le opportune conoscenze proprio come cavalcando l'onda dell'oceano è indispensabile conoscere le leggi della meccanica classica. Quindi questo è un po' il nostro pensiero.